Alcuni sono ancora qui, potrei anche scrivere, alcuni di noi, esseri umani, sono ancora qui, sulla terra, ma forse renderei le cose troppo chiare, quindi è sufficiente scrivere che alcuni sono ancora qui. Fra questi alcuni si considerano dei sopravvissuti, alcuni altri si ingegnano, altri ancora costruiscono, mentre io cammino. Prima non era così. Potrei anche scrivere che prima delle intersezioni la terra era diversa, ma la diversità non basterebbe a spiegare e poi se si vuole raggiungere la comprensione. Spiegare è un modo che non funziona più qui. Vivo in un mondo apparentemente inospitale, in cui le montagne e le pianure si sono mescolate, mentre i mari, i fiumi e i laghi si sono nascosti e le opere sono evaporate nell'astrazione. L'unico modo per vivere sulla terra è adattarsi alle nuove condizioni, ma la cosa risulta più facile per alcuni che per altri. Sì, lo so, a prima vista l'aspetto del pianeta è disperazione, aspra e sconfinata. Un deserto che si estende a perdita d'occhio. No, peggio. Un deserto che si estende a perdita di voglia di vivere, a perdita di forze, a perdita di parola. Non è un modo di dire. ad uno sguardo più attento, però, l'occhio meticoloso e lo spirito tenace possono notare che esiste tutto ciò che serve per vivere, e anche di più. Le idee di vegetale, animale e minerale si sono come fuse insieme, dando vita a una sterminata gamma di esseri immuni alle intemperie e alla presenza umana che noi chiamiamo Urrut. Esseri che possono nutrirci e plasmarsi alle necessità di noi che non siamo più esattamente umani. Siamo così pochi da poter considerare ogni individuo una specie a sé stante. pochi di noi parlano ancora di esseri senzienti e chi lo fa usa toni nostalgici riferiti a uomini che scandivano il continuum in presente, passato e futuro. potrei affermare che qui sono gli Urrut a potersi dire una popolazione. ed io scrivo di questo per far sì che qualcuno legga nel fortuito caso in cui alcune forze portino queste parole impresse sulla carta di Urrut a qualsiasi lettore o viandante nel continuum. adak è l'urgut grazie al quale posso scrivere, disegnare e conservare le mie esperienze in modo che altri percorrano ciò che io ho esplorato. mi spiego, si tratta di un Urrut radice che cresce sottoterra una volta raccolto e ridotto ad una lamina. l'adak viene esposto all'aria e al sole fino alla completa essiccazione fino a che non assume la consistenza di ciò che prima delle intersezioni veniva chiamato carta. il nome adak è stato scelto e dato a questa radice proprio da me in questo deserto diversi anni fa. ho preso questo nome in prestito dalla sterminata riserva di parole che gli esseri umani hanno usato fino a un certo punto e poi lasciato in disuso. dato che non esistono più gli oggetti o le immagini di riferimento per molte di queste parole ho pensato perché no, perché non usare nomi pressoché dimenticati per definire nuovi oggetti, esseri o fenomeni. inizialmente avevo cercato di non definire niente per rispettare le intersezioni appena avvenute ma poi camminando per mesi e mesi ho commisurato le forze contenute nei linguaggi le ho trovate incomparabili, infinitesimali rispetto alle forze che hanno spostato i laghi sottoterra o appiattito in pochi giorni le montagne portando i dislivelli tra monte e piano a poche centinaia di metri. provate a fermare il vento con le parole e vedrete che non serve alcuna cautela linguistica il vento soffierà indipendentemente da come lo chiamerete l'unica cosa che sono riuscito a cambiare con un nome è stato il mio atteggiamento nei confronti del camminare ma sto divagando volevo parlare meglio dell'Adhaq è un Urgut molto diffuso che cresce praticamente ovunque io sia stato lo si trova spostando un po' di terriccio con le mani in corrispondenza di alcuni piccoli germogli pietrosi gli esemplari più voluminosi tuttavia si trovano più in profondità in gruppi di una decina di esemplari una volta trovato uno di questi giacimenti ne segno la posizione su una mappa per poi tornare a raccoglierli quando tutti i miei grandi fogli vuoti si saranno riempiti di disegni e appunti e buffono ho una mappa che consulto per trovare gli Adhaq che uso per disegnare la mappa ma è proprio così che ho cominciato a viaggiare a viaggiare cercavo della carta per descrivere ciò che vedevo intorno a me e cercando camminavo e camminando notavo sempre più cose che valeva la pena descrivere non so esattamente quando le mie escursioni hanno cominciato a cucirsi insieme per diventare un unico continuo viaggio di esplorazione non che io abbia poca memoria o poca attenzione anzi è solo che si sono perdute le idee di casa e di ritorno su un pianeta mescolato e completamente da rimappare quando il clima diventa difficile ci si può riparare in buche scavate con le mani nel terreno morbido in questo senso io ho centinaia di case ma allo stesso tempo una sola questa alla fine come del resto all'inizio e per tutta la durata dello svolgimento il mio viaggio appreso ad avere degli obiettivi collaterali rispetto al primordiale istinto dello spostarsi raccolgo osservazioni e dati che alcuni altri possono trascrivere ed utilizzare ogni tanto incontro qualcuno e scambio i miei appunti con le sue storie storie che a loro volta finiscono nei miei appunti e così via a volte riesco quasi a dimenticarmi come fosse prima so è il Grazie a tutti.